ciao a tutti anche nell'esercizio di oggi continuiamo a mettere in pratica le proprietà degli shape layer useremo soprattutto il trim pads il repeater che abbiamo già usato il merge per fondere le forme e questa volta useremo anche la proprietà wiggle transform per aggiungere un po di vibrazione sulle animazioni degli shape layer benissimo allora cominciamo a vedere quello che dobbiamo realizzare benissimo anche in questo caso si tratta di un'animazione molto semplice utile in particolare per mettere in evidenza i dettagli di una foto o di un video in questo caso il dettaglio è questo pulsante qui che viene prima isolato da questo piccolo anello giallo e poi viene replicato ingrandito all'interno di un altro anello qui sulla destra questi due anelli sono collegati da questa linea e a fianco all'ingrandimento c'è anche lo spazio per una piccola didascalia nel caso si volesse descrivere l'oggetto ingrandito in più qui ci sono anche delle sottili barre che si muovono in modo casuale che sembrano quasi accompagnare il ritmo della musica e all'inizio dell'animazione ci sono queste piccole frecce che indicano il luogo del dettaglio che poi verrà ingrandito in questo caso sono tre frecce di varia grandezza che si allargano dal centro verso l'esterno e poi questo gruppo di tre frecce viene replicato in cerchio grazie alla proprietà repeater bene io direi subito di cominciare dall'animazione delle frecce quindi creiamo una nuova composizione chiamo in composition new composition nominiamo subito la composizione esercizio 8 finale la dimensione che gli diamo è la solita che usiamo noi 1920x1080 la durata 10 secondi e come sfondo usiamo il nero ok ora per comodità faremo l'animazione delle frecce qui al centro della composizione quindi abbiamo bisogno di mettere in evidenza il centro della composizione per farlo facciamo comparire immediatamente le cornici di sicurezza quindi veniamo qui nel menu in basso nella finestra della composizione attiviamo title action safe ed ecco abbiamo la croce sul centro della composizione poi per aiutarci nel disegno delle frecce aggiungiamo anche la griglia quindi sempre nel solito menu mettiamo in evidenza grid e oltre a questo anche andiamo nel menu view e attiviamo la voce snap to grid che ci serve a calamitarci all'incrocio delle maglie della griglia ebbene avviciniamoci un po prendiamo lo strumento pennino disattiviamo lo stroke attiviamo il fil colore tinta unita e in questo caso usiamo un giallo che io ho già preparato benissimo quindi io partirai cliccando qui poi altri quattro punti e poi di nuovo chiudiamo la forma prendiamo lo strumento selezione avviciniamoci un attimo eventualmente sistemiamo i vari punti bene io direi a questo punto di attivare anche come sfondo il nero della composizione quindi clicchiamo su questo pulsante qui e si attiva il colore di fondo che avevamo scelto nei settings della composizione ora apriamo nella timeline il contenuto dello shape layer apriamo contents apriamo anche il contenuto dello shape e andiamo direttamente nella sezione delle proprietà di trasformazione di questo oggetto le apriamo e lavoreremo sulla posizione sulla scala e sull'opacità cioè noi vogliamo che al tempo 0 la freccia si trovi qui quindi accendiamo l'orologio della position vogliamo che la freccia sia grande 0 quindi azzeriamo la proprietà scala e poi accendiamo l'orologio per aggiungere il keyframe anche sulla scala l'opacità invece la lasciamo al 100% e accendiamo l'orologio di opacità poi avanziamo circa una quindicina di frame nella timeline e innanzitutto ingrandiamo la freccia io direi di ingrandirla più o meno di questa quantità qua poi la spostiamo verso l'alto quindi la allontaniamo dal centro io direi di andarla a mettere più o meno a questa distanza e anche la rendiamo trasparente quindi l'opacità 0% ammorbidiamo i due keyframe delle proprietà scala e posizione quindi li selezioniamo ecco la palette controllo isis che ormai abbiamo già usato parecchie volte impostiamo un valore intorno agli 80 90 facciamo una preview per vedere se l'animazione ci va bene direi che è perfetta adesso vogliamo altre due copie della freccia di dimensioni più piccole che facciano la stessa animazione ma leggermente ritardata una rispetto all'altra quindi io direi di chiudere il contenitore di questo shape selezionarlo e duplicarlo altre due volte in modo da avere rapidamente tre copie della stessa freccia quindi selezioniamo shape andiamo nel menu edit duplicate oppure control d benissimo attiviamo il duplicate e per duplicarlo un'altra volta questa volta usiamo la scorciatoia quindi control d e abbiamo tre copie bene adesso clicchiamo il tasto u in modo che si mettono in evidenza i keyframe di tutte e tre le stelle allineiamoci con i keyframe finali della seconda stella che è lo shape 2 quindi clicco col tasto destro sui keyframe finali e go to keyframe time e mi allineo in questo momento qua questa freccia qui voglio che termini un po più piccola quindi diminuiamo il valore e vedete che si è rimpicciolita la freccia numero 3 che è lo shape 3 invece vogliamo che sia ancora più piccola quindi la rimpiccioliamo ancora più della seconda io direi questa grandezza qui quindi abbiamo tre frecce che terminano una grande una media e una piccola e tutte e tre hanno la stessa identica animazione partono insieme e arrivano insieme ma noi vogliamo che parta prima la grande poi la media e poi la piccola quindi prendiamo tutto il gruppo dei keyframe della stella media che è questo gruppo qui e lo posticipiamo nella timeline di qualche fotogramma io direi 4 5 frame più o meno così e la stessa cosa la facciamo anche per i keyframe della terza stella quella piccola quindi 5 frame dopo la seconda più o meno qui direi facciamo una preview esattamente abbiamo le tre frecce una più piccola dell'altra che hanno la stessa identica animazione ma ritardata adesso vogliamo questo identico gruppo i tre stelle replicato altre tre volte una destra una in basso e una sinistra e per ottenere questo rapidamente useremo la proprietà repeater che è incorporata agli shape layer quindi chiudiamo un attimo il contenuto lo shape layer lo riapriamo e riapriamo anche contents selezioniamo contents cioè il contenuto di tutte le forme e dal menu add aggiungiamo la proprietà repeater come dicevamo prima immediatamente il repeater come sappiamo crea tre copie di tutti gli oggetti che trova al di sopra e li distribuisce uno fianco all'altro a destra ma noi vogliamo distribuirli in cerchio quindi apriamo le proprietà del repeater innanzitutto non vogliamo tre copie ma quattro in totale quindi aggiorniamo subito il numero delle copie da tre a quattro poi andiamo nei parametri di trasformazione del repeater cioè qua dentro e azzeriamo la posizione x modo che tutte quante le frecci si allignano di nuovo quindi azzeriamo questo parametro ora aumentiamo il valore di rotation le frecce cominciano a distribuirsi in cerchio e in questo caso il valore esatto da dare per distanziarli uniformemente è 90 gradi rivediamo il tutto direi che perfetto bene adesso prima di continuare direi di rinominare questo livello lo selezioniamo e possiamo nominarlo animazione frecce bene chiudiamo lo shape layer adesso possiamo aggiungere la fotografia la fotografia la fotografia la aggiungiamo sotto le frecce e la rimpiccioliamo un po perché è molto grande io direi più o meno di questa grandezza naturalmente se anche voi volete usare la stessa foto che uso io io come al solito vi lascio il link nella pagina del video dal quale potete scaricarvela gratuitamente bene andiamo a zoomare sul luogo del dettaglio direi di mettere anche la fotografia in modo che il centro del dettaglio si trovi all'incrocio delle maglie della griglia io direi più o meno in questa zona qua adesso prendiamo le frecce e le spostiamo esattamente qua benissimo ora mentre le frecce si aprono contemporaneamente si deve allargare anche un anello giallo quindi disattiviamo tutti i livelli nella timeline e andiamo a prendere lo strumento ellisse in questo caso non vogliamo che abbia riempimento quindi immediatamente disattiviamo fill cliccando sul bottone fill e selezionando il primo comando con la barra rossa e invece attiviamo lo stroke col colore tinta unita e anche in questo caso vogliamo giallo bene allora disegniamo subito un cerchio partirei da questa zona qua e facendomi aiutare dalla griglia riesco anche a sistemarlo nel punto corretto che è questo adesso selezioniamo lo shape layer prendiamo lo strumento selezione e la prima cosa che facciamo è fare in modo che l'anchor point dello shape layer sia al centro della cerchio quindi andiamo nella palette move anchor point e clicchiamo qui al centro bene facciamo subito l'animazione sulla scala che naturalmente deve essere identica a quella delle stelle quindi ci mettiamo col cursore ancora a 15 frame clicchiamo il tasto s per evidenziare la proprietà scala e accendiamo l'orologio della scala in modo da fissare la grandezza finale dell'anello così come si trova adesso poi torniamo al tempo zero e azzeriamo la proprietà scala anche in questo caso vogliamo che il keyframe finale sia morbido quindi selezioniamo il keyframe finale con la palette controllo easy easy gli assegniamo anche in questo caso un valore tra gli 80 e 90 in questo momento l'anello si apre contemporaneamente alla prima freccia ma io voglio che si apra dopo l'ultima freccia quindi io direi più o meno adesso e spostiamo la barra di questo anello giallo qua in questo momento vediamo il tutto direi che perfetto ok l'anello in questo momento ha un contorno continuo ma se andiamo a vedere invece noi vogliamo che sia tratteggiato con dei tratteggi larghi e un piccolo spazio tra uno e l'altro bene quindi entriamo all'interno di shape layer entriamo in contents entriamo nell'ellisse andiamo a cercare la sezione stroke che gestisce i parametri del bordo e qui nella sezione dashes clicchiamo sul bottone più in modo che adesso il contorno non è più continuo ma tratteggiato e clicchiamo anche una seconda volta sul bottone più in modo da avere anche la proprietà gap che gestisce lo spazio fra i vari trattini allora aumentiamo la larghezza dei trattini aumentando il parametro dash io direi più o meno di questa quantità qua e aumentiamo anche un po il gap e forse diminuiamo ancora un po il dash e più o meno adesso abbiamo quattro tratteggi larghi con un piccolo spazio intermedio però vogliamo anche che le varie linee termino arrotondate quindi andiamo nella sezione line cap che gestisce l'aspetto finale delle linee e cambiamo la voce da butt cap a round cap e come vedete immediatamente le varie linee terminano arrotondate bene se però vediamo ancora il filmato potete vedere che questo anello non sta fermo ma continua a ruotare in avanti e indietro in modo del tutto casuale e per fare la stessa animazione attiviamo la proprietà wiggle transform su questo anello quindi adesso veniamo qui nella timeline chiudiamo le proprietà delle lisse selezioniamo contents e dal menu add selezioniamo la proprietà wiggle transform apriamo i parametri di wiggle transform andiamo nella sezione transform che contiene tutte le proprietà alle quali possiamo aggiungere una vibrazione se ne aumentiamo il valore alla proprietà rotation io direi un circa 90 100 gradi l'anello avrà una vibrazione casuale sulla sua rotazione proviamo ok forse la velocità con cui oscilla avanti indietro è un po troppo elevata quindi andiamo al primo parametro del wiggle transform il wiggle second che gestisce appunto la velocità di vibrazione e questo valore che al momento è su 2 direi di abbassarlo a 1 e forse ancora meno di 1 facciamo 0.8 facciamo ancora una preview così è meglio benissimo ora rinominiamo anche questo shape layer possiamo chiamarlo anello dettaglio perché il suo scopo è quello di mettere in evidenza il dettaglio della fotografia che poi verrà ingrandito in un altro anello bene adesso possiamo chiudere lo shape layer ora noi vogliamo che questa fotografia si veda soltanto all'interno appunto di questo anello quindi noi possiamo usare questa forma che abbiamo appena creata anche come maschera per ritagliare la fotografia sottostante quindi veniamo nella timeline duplichiamo questo anello lo selezioniamo questa volta usiamo la scorciatoia ctrl d e questo secondo anello lo mettiamo sopra la fotografia quindi la selezione lo rinomino maschera dettaglio perché servirà appunto a ritagliare la fotografia ora prima di attivare la maschera la fotografia dobbiamo modificare questo anello cioè non vogliamo che abbia un contorno ma vogliamo che abbia invece un riempimento quindi apriamo il suo contenuto andiamo in contents apriamo ellipse e accendiamo il bottone fill in modo che adesso abbia un colore di riempimento e invece non vogliamo che abbia il contorno spegniamo lo stroke ora che il colore sia rosso a noi non interessa molto perché questo cerchio verrà usato come maschera allora adesso concentriamoci sulla fotografia la selezioniamo qui fra gli strumenti della timeline dobbiamo far comparire la colonna track matte io in questo momento non ce l'ho presente quindi clicco col tasto destro in questa zona qua e dalla voce columns attivo modes e subito compare la colonna track matte e in corrispondenza della fotografia come dicevamo prima attiviamo la voce alfa matte vediamo cosa succede che ora la fotografia viene ritagliata dal cerchio in tutto intorno non c'è più nulla benissimo adesso tutto intorno vogliamo un'altra copia della fotografia ma ricolorata quindi innanzitutto duplichiamo la fotografia che è già presente nella timeline quindi la selezioniamo di nuovo control d il duplicato lo mettiamo dietro la fotografia ritagliata e immediatamente disattiviamo la funzione alfa matte quindi riportiamo la voce su no track matte bene questa fotografia come dicevamo prima adesso la ricoloriamo con un effetto prima di farlo magari disattiviamo la griglia che adesso diventa un po fastidiosa quindi nel menu di prima disattiviamo griglia e magari disattiviamo anche le cornici di sicurezza che non ci servono più quindi disattiviamo anche title action safe benissimo allora selezioniamo la foto che sta dietro andiamo nel menu effetti e nella sezione color correction attiviamo l'effetto hue saturation che ci servirà appunto a ricolorare la foto bene adesso scendiamo nella parte bassa dei parametri dell'effetto dove c'è un bottone che si chiama colorize lo attiviamo immediatamente e la foto subito si ricolora di rosso ma noi magari la viriamo verso un giallo arancio quindi per modificare la colorazione basta che aumentiamo il valore colorize finché non troviamo il colore che va bene per noi io direi più o meno questo valore qui poi è possibile aumentare anche la saturazione per renderlo un filo più colorato e in questo caso direi però anche di abbassare la luminosità diminuendo anche il parametro lightness così la foto nel dettaglio che è più chiara risalta di più rispetto allo sfondo così benissimo ora adesso dobbiamo disegnare la linea che parte dalla parte alta dell'anello e ci porta verso il secondo anello quindi di nuovo adesso riattiviamo la griglia che ci aiuta nel disegno quindi attiviamo griglia avviciniamoci un po' disattiviamo tutti i livelli nella timeline prendiamo lo strumento pennino partiamo da questo punto poi clicchiamo in questa zona non facciamo un angolo retto deviamo più o meno qui e arriviamo più o meno qua bene adesso aggiungiamo anche nello stesso shape layer l'anello che poi conterrà l'ingrandimento e poi con un'unica proprietà trim paths li disegneremo entrambi quindi di nuovo seleziono lo shape layer zoom leggermente indietro prendo lo strumento ellisse e disegno un cerchio più o meno grande così e la griglia naturalmente mi aiuta a centrarlo perfettamente adesso di nuovo possiamo ancora disattivare la griglia che da solo fastidio quindi togliamo ancora grid bene ora aggiungiamo la proprietà trim paths quindi nella timeline selezioniamo contents e dal menu add aggiungiamo appunto dicevamo la proprietà trim paths apriamo i parametri trim paths e se noi agiamo sulla proprietà and e andiamo da 0 a 100 si vede benissimo che le due forme si disegnano contemporaneamente ma noi vogliamo che si disegni prima la linea e poi il cerchio quindi andiamo nei parametri del trim paths e dove c'è il parametro trim multiple shape anziché la voce simultaneously mettiamo la voce individually e a questo punto se noi lavoriamo sull'end da 0 a 100 vedete che prima si disegna il cerchio e poi si disegna la linea ma noi vogliamo invertire i due disegni e per farlo basta che invertiamo l'ordine delle forme all'interno qui del contents quindi prendiamo lo shape che è la linea la mettiamo prima dell'ellisse e a questo punto lavorando sull'end da 0 a 100 disegniamo prima la linea e poi il cerchio ma ultima cosa come vedete il cerchio comincia a disegnarsi dal punto più in alto parte da qua e poi si chiude qua in alto ma noi vogliamo che parte da qui quindi entriamo nei parametri del cerchio quindi in ellisse 1 cerchiamo la proprietà rotazione che sta in transform ellisse e facciamo in modo che il punto di inizio sia 90 gradi verso sinistra quindi nel nostro caso meno 90 e adesso il cerchio comincerà a disegnarsi da questo punto e poi si completerà bene ora facciamo l'animazione sulla proprietà end come dicevamo prima la linea deve cominciare a disegnarsi nel momento in cui l'anello che circonda il dettaglio completa la sua animazione quindi andiamo a cercare il momento esatto che più o meno è qua come si vede bene in questo momento la proprietà end del trim pass deve essere a zero quindi azzeriamo la proprietà e la linea sparisce del tutto accendiamo l'orologio e facciamo che circa un secondo e mezzo due dopo quindi qui a un secondo qui circa un secondo e mezzo più o meno da queste parti qua la linea sia completata quindi portiamo l'end al cento per cento i due keyframe questa volta li ammorbidiamo con un ammorbidimento automatico quindi selezioniamo i due keyframe e col tasto f9 attiviamo l'easy ease automatico rivediamo il tutto perfetto direi che come velocità ci siamo bene innanzitutto trimiamo i primi frame di questa linea fino a quando la linea punto non internazione quindi fino all'inizio dell'animazione poi rinominiamo questo shape layer io direi di chiamarlo linea più anello ingrandimento perché all'interno dell'anello comparirà poi l'ingrandimento della fotografia chiudiamo pure il livello bene adesso possiamo aggiungere un'altra copia della fotografia sotto questo anello e poi ritagliarla con la forma dell'anello quindi andiamo nella finestra di progetto prendiamo un'altra copia della foto la mettiamo sotto l'anello spostiamo la fotografia in questo punto qua in modo che il dettaglio compaia perfettamente al suo interno io direi che è praticamente perfetto così non c'è neanche bisogno di ridimensionare la fotografia ora la fotografia vogliamo però che sia ritagliata precisamente come l'anello quindi possiamo di nuovo usare una copia dell'anello di prima come maschera per questa nuova fotografia quindi veniamo nella timeline selezioniamo linea più anello ingrandimento e lo duplichiamo ctrl d il duplicato lo mettiamo sopra la fotografia e lo rinominiamo subito maschera foto ingrandimento bene apriamo il suo contenuto e togliamo quello che non ci serve a noi non serve la linea che è lo shape quindi la elimino e anche il trim parts via rimane solo l'ellisse soltanto che vogliamo che abbia un riempimento e non un contorno quindi apriamo le sue proprietà riattiviamo fill e spegniamo stroke adesso concentriamoci sulla fotografia e in corrispondenza della colonna track matte attiviamo la voce alfa matte ed ecco che la fotografia ingrandita si vede soltanto all'interno di quell'anello lì però vediamo subito come deve comparire la fotografia ecco la fotografia deve comparire con una tendina obliqua che parte dall'alto e scende in basso verso destra quindi possiamo usare questa volta una semplice maschera animata sulla fotografia per simulare appunto questa tendina che si apre quindi selezioniamo la fotografia prendiamo lo strumento rettangolo e tagliamo la foto in forma rettangolare bene poi prendiamo lo strumento selezione ma dobbiamo fare in modo che questa maschera si trovi qua in cima inclinata e poi si apra verso il basso quindi doppio clic sulla maschera la incliniamo innanzitutto un po io direi così e la spostiamo fuori in questa zona qua ora apriamo le proprietà della maschera e dobbiamo lavorare sulla proprietà mask path che appunto gestisce la forma della maschera nel tempo allora io direi che la maschera deve partire più o meno in questo momento qui quando l'anello giallo è appena partito quindi ora accendiamo l'orologio di mask path in modo che la forma della maschera iniziale viene memorizzata poi avanziamo anche in questo caso circa una quindicina di frame più o meno fino qua quando l'anello non è ancora del tutto completato quindi prendiamo il lato più basso di questa maschera e lo spostiamo in modo tale che inglobi tutta la fotografia e quindi fino qua a questo punto l'animazione dovrebbe essere perfetta rivediamo il tutto benissimo direi che anche la velocità è corretta bene proseguiamo ora per ottenere questa fascetta gialla che a sua volta è contenuta nell'anello possiamo sfruttare la proprietà merge e adesso vediamo come innanzitutto cominciamo a duplicare la maschera che abbiamo usato per ritagliare la foto quindi seleziono la maschera di ingrandimento della foto ctrl d e questa maschera foto ingrandimento 2 la rinominiamo subito riflesso giallo poi siccome è il duplicato della maschera dobbiamo anche riaccendere l'occhiolino qua sulla sinistra e immediatamente come vedete ricompare il cerchio che però in questo caso è rosso noi lo vogliamo giallo quindi selezioniamo riflesso giallo andiamo nella palette colori di fill prendiamo il contagocce e possiamo campionare tranquillamente lo stesso colore della linea gialla ecco fatto bene se adesso nello stesso shape layer aggiungiamo anche un rettangolo e poi facciamo l'intersezione tra il rettangolo e il cerchio otteniamo appunto un rettangolo che si vede all'interno del cerchio facciamolo subito selezioniamo riflesso giallo prendiamo lo strumento rettangolo e aggiungiamogli un rettangolo più o meno di questa grandezza adesso combiniamo queste due forme facendo nell'intersezione quindi andiamo contents dal menu add questa volta usiamo l'operatore merge path che fa le combinazioni appunto fra forme quindi aggiungiamo merge path apriamo i parametri di merge path e nel menu mode anziché lasciare l'opzione add che è l'unione delle forme questa volta attiviamo la voce intersect che fa l'intersezione fra le due forme che è proprio quello che ci serve adesso selezioniamo il rettangolo prendiamo lo strumento selezione e lo incliniamo più o meno come il taglio che avevamo fatto sulla fotografia quindi indietreggiamo un po nella timeline ecco fino a quando non vediamo il taglio che c'è sulla foto adesso avvicinandoci all'angolo del rettangolo vedete che compare lo strumento per ruotare la forma io posso ruotarla e la posso anche spostare un po in su e io direi di sistemarla più o meno così ora adesso faremo un'animazione sulla posizione di questo rettangolo a partire da qua fuori fino a fuori in basso quindi mettiamo nella parte alta appunto andiamo a cercare la proprietà position del rettangolo quindi apriamo rettangolo 1 apriamo le sue proprietà di trasformazione cioè transform rettangolo e concentriamoci su position ora facciamo partire il rettangolo quando la fotografia è quasi del tutto comparsa che è più o meno direi in questo momento qui quindi in questo momento facciamo partire la position accendiamo l'orologio della position e anche in questo caso circa 15 frame dopo più o meno qua portiamo il rettangolo dalla parte opposta vediamo se l'animazione può andar bene direi di sì facciamo una preview forse in questo caso l'animazione del rettangolo può essere un po più veloce anzitutto anticipiamo un po e poi avviciniamo anche un po di più i due keyframe facciamo una preview direi che così è molto meglio benissimo ora ci manca la fascetta con il titolo e poi le barre animate qua sotto prima però trimiamo quello che non ci serve di questo riflesso giallo cioè i fotogrammi iniziali fino al primo keyframe e la coda fino al secondo keyframe perché questo elemento rimane in scena per poco bene adesso possiamo chiudere lo shape layer e anche la fotografia ora riattiviamo di nuovo la griglia che può aiutarci a disegnare rapidamente la fascetta che contiene il titolo quindi in questo menu attiviamo di nuovo grid avviciniamoci un po prendiamo lo strumento pennino ancora io direi di partire più o meno da questo punto qua quindi un punto qua un punto qua poi tagliamo l'angolo anche in questo caso arriviamo un poco dentro il cerchio e poi lo chiudiamo io direi più o meno così rinominiamo subito lo shape layer fascetta titolo perché serve a contenere il titolo e siccome vogliamo che si allarghi da destra verso sinistra mettiamo l'anchor point qui sul lato destro quindi con lo strumento selezione nella palette move anchor point clicco qui sul lato destro adesso apriamo la proprietà scala cliccando il tasto s e in questo caso particolare la fascetta la facciamo aprire mentre sta passando il riflesso giallo sulla fotografia quindi io direi più o meno in questo momento qua quindi qui portiamo la larghezza di questa fascetta a zero soltanto la larghezza l'altezza no quindi spegniamo la catenella che tiene uniti due parametri x e y e azzeriamo soltanto il valore x della scala quindi scala x zero accendiamo l'orologio e in questo caso facciamo passare circa un secondo quindi siamo a 2 11 andiamo anche qui circa 3 10 3 11 in questo momento riportiamo il valore a 100 e quindi abbiamo un'animazione di questo tipo qua anche in questo caso vogliamo che l'ultimo keyframe sia particolarmente morbido quindi le selezioniamo e con la palette controllo is easy gli assegniamo un valore alto tra gli 80 e i 90 e trimiamo l'inizio dell'animazione fino al primo keyframe vediamo se la velocità può andar bene facciamo una preview ok però bisogna stare attenti che la fascetta deve essere nascosta dietro alla fotografia altrimenti si vede qui dove comincia quindi prendiamo la fascetta titolo e la mettiamo dietro la foto che sta nell'ingrandimento cioè qua bene e adesso possiamo scrivere qua al suo interno il titolo che è motion graphics quindi prendiamo lo strumento testo e scriviamo motion graphics prendiamo lo strumento selezione spostiamo il testo qui in basso le lettere del testo sono un po troppo ravvicinate magari le distanziamo usando il tracking io direi che va bene così perfetto ora possiamo disattivare di nuovo la griglia che non ci serve più ecco in questo caso vogliamo che il testo motion graphics si veda soltanto all'interno della fascetta e che a sua volta poi il testo abbia anche un movimento da sinistra a destra allora per fare in modo che il testo sia mascherato dalla fascetta gialla prendiamo un duplicato della fascetta e lo usiamo appunto come maschera di ritaglio per la scritta motion graphics quindi fascetta titolo e qui lo selezioniamo ctrl d il duplicato lo mettiamo immediatamente sopra la scritta motion graphics cioè qua e lo rinominiamo anche maschera titolo se prendiamo in considerazione adesso il titolo in corrispondenza della colonna track matte anche per lui attiviamo la voce alfa matte in modo che adesso come si vede bene viene ritagliato con la forma della fascetta però il titolo non lo vogliamo statico vogliamo che parta un po a sinistra e poi si sistemi in questa posizione qua quindi innanzitutto allineiamoci con il keyframe finale dell'animazione sulla fascetta che è questo qua quindi go to keyframe time mi allineo qua apro la proprietà position della scritta motion graphics clicco il tasto p e accendo l'orologio appunto di position quindi ho fissato la sua posizione finale adesso mi allineo con il primo keyframe dell'animazione della fascetta quindi qui go to keyframe time in questo momento voglio che il titolo si trovi un poco più a sinistra più o meno direi qua e il keyframe finale vogliamo che sia morbido come quello della fascetta quindi lo selezioniamo e attiviamo sempre dal controllo is is più o meno lo stesso valore vediamo il tutto se funziona perfetto ora l'ultimo elemento grafico che sono quelle barre animate qua sotto disattiviamo tutto disegniamo una piccolissima barra qui e poi la replichiamo con il repeater e poi tutte queste copie verranno animate in modo casuale dalla proprietà wiggle transform allora prendiamo lo strumento rettangolo appunto avviciniamoci un poco disegniamo un sottile rettangolo io direi così in questo caso però non vogliamo il contorno e soltanto riempimento quindi apriamo le sue proprietà disattiviamo stroke e ci teniamo soltanto il fill poi per replicarlo più volte fino alla fine della barra usiamo come dicevamo prima proprietà repeater quindi selezioniamo contents dal menu add attiviamo appunto la voce repeater subito abbiamo tre copie distanziate 100 pixel ma noi le vogliamo più ravvicinate quindi apriamo i parametri di repeater andiamo direttamente nella sezione transform e diminuiamo la distanza tra le varie copie io direi più o meno una cosa così a questo punto possiamo aumentare il numero di copie fino a quando non arriviamo all'anello e ora per animarle aggiungiamo anche la proprietà wiggle transform quindi chiudiamo pure repeater selezioniamo ancora contents aggiungiamo dal menu add wiggle transform come vedete il wiggle transform in questo caso si è messo prima del repeater e non va bene dobbiamo metterlo dopo il repeater perché vogliamo che ogni singolo elemento del repeater abbia un'animazione diversa apriamo i suoi parametri e in questo caso l'animazione la faremo sulla scala verticale in modo che si allunga e si accorcia soltanto in altezza quindi andiamo nella sezione transform del wiggle spegniamo la catenella di scale e aumentiamo il valore y della scala e come vedete adesso ogni barra ha una lunghezza diversa e se facciamo una preview come vedete queste barre hanno un'animazione continua casuale e si allargano e si stringono in altezza ok la velocità di vibrazione in questo caso io direi che possiamo anche aumentarla un po quindi andiamo al primo parametro che wiggle transform anziché due lo possiamo raddoppiare magari lo portiamo a 4 e quindi facendo la preview vedete che adesso le barrette sono più rapide allargarsi in su e in giù però c'è un problema cioè noi vogliamo soltanto le barre che si vedono nella parte inferiore quelle nella parte superiore non le vogliamo quindi selezioniamo shape layer prendiamo lo strumento selezione magari mettiamo anche l'ancor point al centro delle barre quindi clicchiamo al centro di move anchor point e spostiamo le barre qua sopra più o meno qua ora per eliminare la parte superiore tenereci soltanto la parte inferiore possiamo ritagliare questo shape layer con una maschera però bisogna stare un attimo attenti adesso vediamo perché selezioniamo lo shape layer prendiamo lo strumento rettangolo ma siccome con questo strumento questa volta vogliamo disegnare una maschera su uno shape layer e non aggiungere un altro rettangolo colorato prima di utilizzarlo dobbiamo attivare questo pulsante qui a fianco a questa stellina azzurra cioè questo qui col puntino nero quindi io clicco qua a questo punto lo stesso strumento che noi usiamo per generare delle forme viene usato per generare una maschera quindi adesso posso venire qui nella timeline e ritagliare tranquillamente questo shape layer quindi mi rimangono soltanto le barre che stanno al di sotto ora rivediamo un attimo il tutto se anche le barre hanno un'animazione iniziale anche le barre come vedete entrano con una tendina da destra a sinistra quindi come abbiamo fatto per l'ingrandimento della fotografia possiamo animare la maschera da destra e allargarla verso sinistra quindi prendiamo lo strumento selezione doppio clic sulla maschera e trasciniamo il margine sinistro tutto a destra fino a quando non abbiamo più le barre all'interno della maschera ci possiamo fermare qua e adesso possiamo far partire l'animazione di questa maschera in modo tale che segua l'animazione della fascetta del titolo quindi aspettiamo che la fascetta del titolo sia partita più o meno qua benissimo apriamo le proprietà della maschera e accendiamo l'orologio di mask path bene avanziamo nella timeline io direi più o meno fino a qui di nuovo doppio clic sulla maschera adesso possiamo allargare la maschera in modo che inglobi tutte quante le barrette facciamo una preview per vedere se la velocità di apertura è corretta e direi che anche in questo caso va bene così bene rinominiamo questo shape layer barre animate e magari trimiamo i frame iniziali fino a quando non entrano in scena cioè più o meno qua bene e ora per concludere come vedete anche nell'animazione finale qua sugli anelli e sulle linee c'è un effetto di bagliore che sembra quasi illuminare rendere un po incandescenti quelle linee lì e lo stesso effetto c'è anche sulle frecce quindi torniamo qui nella timeline selezioniamo questi tre livelli cioè le frecce l'anello che evidenzia il dettaglio e anche la linea e l'anello dell'ingrandimento e su questi tre livelli aggiungiamo come dicevo prima quell'effetto che crea un bagliore quindi nel menu effetti nella sezione style eyes aggiungiamo l'effetto glow come vedete istantaneamente tutti questi elementi adesso hanno un bagliore forse nel nostro caso è un pochino troppo intenso quindi se veniamo qui nel controllo degli effetti come vedete ci sono diversi parametri ma noi ci limitiamo soltanto abbassare un po l'intensità di questo bagliore quindi qui il valore è 1 lo possiamo portare a 0,7 magari benissimo poi magari voi ve lo potete regolare in altro modo e adesso finalmente possiamo rivedere tutta quanta l'animazione molto bene quindi anche con questo esercizio abbiamo finito e ci vediamo alla prossima ciao